Buonasera siamo qui allo stadio di Baia Tonino Chiovato, siamo a questa prima edizione di Uniti si può, organizzata dal comune di Monti di Procida e dal comune di Bacoli, questa partita di calcio per beneficenza, la beneficenza per la Onus, la casetta, questa associazione che da anni si occupa di famiglie disagiate e soprattutto un occhio di riguardo per i bambini. Noi siamo qui allo stadio, la partita non è ancora iniziata, ancora stanno arrivando giocatori, consiglieri che devono partecipare a questa manifestazione, vediamo in maglia rossa la squadra di Monti di Procida, in maglia blè, la squadra del comune di Bacoli, noi attendiamo qualcuno. Allora siamo qui in compagnia del sindaco di Bacoli, Giosi, che si è appena cambiato. Ciao Giosi, buonasera. Buonasera a voi e grazie sempre per la presenza. Allora abbiamo parlato prima un po' con i ragazzi, questo è un evento benefico, il ricavato andrà in beneficenza all'associazione Onus, la casetta che si occupa di famiglie e bambini disagiati. questa partita è organizzata dal comune di Bacoli in collaborazione con il comune di Monti di Procida, come parlavamo l'altra volta di sinergie tra i paesi, anche nel sociale. Sì, l'organizzazione è sponsorizzata anche dai comuni, è un gruppo di sostenitori sia di Pugliese a Monti di Procida e nostri a Bacoli, hanno organizzato questa bellissima manifestazione in un campo da calcio che è stupendo e che deve ritornare, diciamo così come era un tempo bello gremito di tifosi ogni domenica. La solidarietà ci ha già caratterizzato qualche settimana fa a Monti di Procida, al parco del benessere, dove il sindaco Fugliese ha avuto l'infortunio, quindi sarà quest'oggi in panchina. Noi comunque, anche se è benefico, vogliamo vincere perché è il nostro DNA, quindi daremo spettacolo anche in campo. È la prima volta che gioco su questo terreno, quindi sarà bello poterlo fare, poterlo fare un'iniziativa benefica. Allora Peppe, una bella iniziativa, una bella serata. Una bellissima serata, tra l'altro il clima si è fatto pure gradevole a quest'ora, quindi sei una serata all'insegna della sportività, ancora una volta della collaborazione tra i due comuni e spero che saranno raccolti tanti fondi per la casetta e non ci resta che dare inizio a questa bellissima partita. Io purtroppo sono infortunato, so che ero molto temuto dagli avversari, ma purtroppo sarò in panchina, però spero anche da allenatore di creare danni agli avversari, non ai miei. Quindi niente, buona serata a tutti e spero che questa raccolta vada a buon fine. Senti Giosi, che dici di fargli fare il calcio d'inizio con le stampelle? Abbiamo visto che ha gettato lì dietro, le maschera. Sì, sì, il calcio d'inizio lo può fare, lo temevamo molto, meno male che non gioca e quindi siamo certi di poter ottenere la vittoria. C'è un pubblico interessante delle grandi occasioni, quindi sarà una bellissima partita all'insegno della solidarietà e la casetta tra l'altro è una realtà che è proprio al confine tra i due comuni, quindi mai nulla di più simbolico a Cappella, un'area che deve essere valorizzata da entrambi e così lo sarà. Ha detto bene Giosi, la casetta opera da anni tra Bacolo e Monte di Procida, adesso ha scelto una nuova sede proprio sul confine tra Bacolo e Monte di Procida, nella frazione di Cappella per rimarcare la loro importanza sociale e noi stasera spero raccoglieremo tanti soldini per aiutare la casetta ad operare ancora meglio nel sociale. Ok, allora siamo qui in compagnia finalmente della signora Nagallo, rappresentante della casetta, l'associazione Onlus che da anni si occupa di assistenza alle famiglie bisognose, dei bambini che ha deciso, non so se per volontà o meno, di stare a confine tra virgolette di questi due paesi proprio per chiedere aiuto a entrambi, Monte di Procida e Bacoli. Sì, io volevo soltanto sottolineare una cosa, ringraziare chi ha organizzato questa partita e dietro le persone che hanno pensato di dare aiuto alla casetta, quindi non sono in prima persona io a organizzare ma c'è qualcuno che mi ha pensato questa volta. Ma la cosa che vorrei dire e che mi fa piacere dire, non mi piace che si apra la mentalità della gente al nuovo modo di pensare, che non è un pensiero personale ma è un pensiero che si apre all'intero territorio. Parlare della casetta soltanto non mi piacerebbe, mi piace che noi diventiamo parte di un grande progetto e quindi spero che questa civiltà dell'amore di cui io ne parlo, ne straparlo e continuo sempre si possa realizzare nel nostro territorio. Grazie. Grazie a voi. Allora, siamo in compagnia di uno degli organizzatori di questa partita, Antonio Spada, grazie per essere stato con noi, giochi con la squadra del Comune di Bacoli. Sì, diciamo che abbiamo organizzato questa partita con uno scopo nobile, cioè tutto quello che dopo attiveremo una raccolta fondi e andrà all'associazione Onnus la casetta. Oggi pomeriggio proprio ho conosciuto il presidente di questa associazione, la signora a Nagallo, una persona splendida e quindi niente, siamo contenti di aver fatto una cosa così bella. Nonostante l'orario vedo un bel po' di affluenza lì sugli spalti. Speriamo che venga ancora più gente perché ci sarà adesso, inizieremo con un'esibizione di hip hop, c'è la maestra Ilaria Vena e dopodiché tra il primo e il secondo tempo ci saranno anche due giovani artisti della nostra zona che canteranno delle canzoni, quindi comunque è una bella cosa. Sì, Antonio della Ragione che è di Bacoli e Antonio Ezio che è di Montediproci. Infatti dice Antonio della Ragione, 15 anni, che comunque canterà il suo inedito, quindi ci farà questa cortesia. E tutto gratuitamente. Ok, grazie e in bocca al lupo. Assolutamente, grazie a voi. Allora, siamo qui in compagnia con il consigliere delegato allo sport del comune di Montediproci da Tina Schiano, che anche lei è venuta questa sera a partecipare a questo evento. Ciao Tina. Buonasera, buonasera a tutti. Niente, comunque questo sarà un evento soprattutto per dare un forte segnale e per comunque spiegare che lo sport innanzitutto deve unire. Non a caso abbiamo deciso di fare questa partita con questi due comuni vicini e come già sapete la partita sarà, con il raccolto, sarà devoluto alla casetta Onlus di Bacoli. con la speranza di fare sempre di più questi tipi di manifestazione per il paese. Bacoli, Montediproci da. Grazie Tina. Grazie a voi, buona serata. Allora, siamo qui in compagnia, ritorna tra noi Antonio Spada con gli altri due organizzatori di questa manifestazione. Se vi fate un po' più avanti, ecco, grazie. Allora, Fabio? Della Ragione. A te ti saltiamo perché già ci conosciamo. Della Ragione. Allora, ragazzi, una bella esperienza questa prima edizione di Uniti si può, un gesto effettivamente nobile. Ecco, dove nasce e che cosa si prefigge? Nasce dal fatto di unire i due comuni di Bacoli, Montediproci da che mai come questa volta stanno dimostrando una piena collaborazione in tutto sul territorio. E quindi noi che siamo degli attivisti, che lavoriamo tutti i giorni per questo, ci siamo messi in atto per formare questo evento di stasera che speriamo che vada a buon fine. Ecco, vogliamo dire, Fabio, come partecipare a questa raccolta? Allora, praticamente noi abbiamo fatto un tipo di raccolta fondi per la casetta Onlus e praticamente girerà durante la partita delle persone non addette che possono passare per il pubblico affinché possano fare una donazione appunto per queste famiglie disagiate, chi ha bisogno e chi è meno fortunato di noi. Aggiungo che l'ingresso è totalmente gratuito. Quindi basta semplicemente donare. Donare, donare, donare. Volevo fare un saluto, scusami, alla signoranna che abbiamo conosciuto oggi della casetta Onlus che è una splendida persona che non avevo il piacere di conoscerla, l'ho conosciuta oggi e da oggi mi impegnerò in prima persona insieme ai miei cugini, insieme agli assessori del comune di Bagoli perché è una persona che veramente merita tanto per quello che ha fatto negli anni e quello che sta facendo tuttora. E quindi nasce una nuova collaborazione? Sicuramente. Grazie. Allora siamo qui in compagnia di un ex calciatore di Bagoli e Montediproci da Caro Rosario. Questa sera sei presente in altre vesti, anzi in duplice veste, quella di sicurezza e quella di soccorso. Ecco, come mai hai deciso di partecipare, ti hanno chiamato, ti fa piacere? Per il mio paese e per i due paesi collaboro molto con i due sindaci giovani, siamo sempre vicini a loro, pure a scopo benefico, l'importante è che collaboriamo sempre tutti quanti insieme. E noi ringraziamo Rosario per essere stato con noi. Grazie, buona serata a tutti e buon divertimento. Grazie.